Naturalmente il pianoforte con i suoi artisti coinvolge il casentino e si inserisce nell'ambiente e nella vita di una vallata. È il caso dell'appuntamento in vigna di Terre di Romena alla nuova azienda di Laura Casadei con il concerto di Mirko Mariani e Massimo Simonini che come dice Mariani è in un appuntamento con la casualità. La casualità, la musica secondo me c'è una parte che si chiama caso, allora la sera diamo proprio spazio alla casualità perché sono con Massimo Simonini, sappiate che le ultime due opere, Stoccausa, Carlo Stoccausa, le ha scritte proprio per Massimo Simonini. Sai, lì siamo nei mondi più astratti possibili. Stasera cerchiamo di portare la canzone, fare uscire la canzone che è una forma molto semplice, tra virgolette semplice, dalla casualità, da paesaggi magari come qua, infiniti, dove ci si può perdere. Io che non sono, non ho mai fatto uso di droghe, però ogni tanto un bicchierotto quando mi trovo in solito da solo, mi piace moltissimo, quando sono solo in casa prendermi una sbordia, capito? Allora a quel punto lì parte il Stoccausa anche dentro di me e mi metto a fare delle canzoni, spesso e volentieri, dove ci si lascia andare, ci si perde, dove si trova questo rapporto per me delicato tra... Con la canzone è difficilissimo uscire da delle forme che non siano quelle che ti portano, però quando metti insieme un po' di Stoccausa e un po' di rosso, può succedere qualcosa che ti fa fare una svirgolata e trovi qualcosa di nuovo. Grazie